Il Natale è alle porte, ma io sono la peggior decoratrice di interni del mondo! Queste vacanze saranno un fiasco totale! Ovviamente ho problemi con le decorazioni natalizie. Penso si debba fare così? Ecco fatto! Oddio, che fiasco! Babbo Natale non verrà mai in una casa come questa! Devo chiamare dei professionisti! Vuoi fare una sorpresa in slow motion? Impara dai migliori! Guarda le migliori idee, esperimenti e slow motion sul canale Wow! È fantastico! Non scherzare con questa ragazza! Iscriviti al canale Wow! Trovi il link nella descrizione! Salve, qui è Quoar di Decor! Hai bisogno di decorazioni di interni? È proprio quello che facciamo! Stiamo arrivando! La situazione è peggiore di quanto ci aspettassimo! Aiutatemi a decorare la stanza per la festa di Natale di mia sorella! Guarda il nostro portfoglio! Ti piace qualcosa che vedi? Ah! Cos'è quello? Una bambola LOL! E se realizzassimo tutte le decorazioni natalizie in stile LOL? È la bambola preferita di mia sorella! Quindi le piacerà sicuramente il design! Ad esempio, cominciamo con una ghirlanda di Natale! Rendiamola LOL tastica! Attacca delle palline di Natale rosa a una ghirlanda decorativa! Aggiungi un logo LOL stampato e immagini delle bambole! Decora con campanellini, pigne e perline bianche e rosa! Ecco! Ora la porta sembra completamente diversa! Continuiamo a lavorare! Salviamo questa festa! Passiamo a questo! Per cominciare, rimuoveremo questa orribile decorazione! E ora decoreremo l'albero! Useremo solo i colori rosa delle LOL! Ehi! Non pensi ci sia uno spazio vuoto qui? Un punto vuoto non sta bene su un albero di Natale! L'ho lasciato per il nostro ornamento principale! Questa è la più bella pallina LOL! Metti le cuffie a una bambola LOL! Incolla a caldo una fascia di foglio di gomma piuma glitterato! E dei pom-pom vicino alle orecchie! Disegna gli stivali con la pittura acrilica! Incolla la bambola dentro la metà di una sfera di plastica trasparente! Metti glitter e neve artificiale nell'altra metà! Unisci le metà! E completa il pezzo con un piccolo albero di Natale! Aggiungi una chiusura con un fiocco! Brava! Questa è un'ottima soluzione di design! Una piccola LOL e un piccolo albero! Che creatività! Continuiamo a decorare la nostra stanza LOL! Cuscini, quadri e ornamenti per l'armadio! Perché ci sono dei chiodi che sporgono dal muro? Dobbiamo trovare un modo per usarli! Un attimo! Ho un'idea! Le ghirlande con le bandierine LOL possono rendere piacevole qualsiasi parete! Taglia un triangolo di cartone colorato! Pratica dei fori con una perforatrice! Hai bisogno di sette triangoli negli iconici colori LOL! Fai passare un nastro attraverso le bandierine! Uniscile tra loro per fare una ghirlanda! Attaccaci lettere LOL! Fiocchi di neve e stelle! Aggiungi una serie di luci! Accendi! Ora questo muro è festoso e luminoso! Sante decorazioni! Guarda questa pila di scatole! Cosa si nasconde qui? Bene! Vediamo! Wow! È un camino! Chi l'avrebbe mai detto? Rendiamolo rosa e in stile LOL! Prepara i regali! E non dimenticare di appendere una calza LOL di Natale! Taglia due pezzi a forma di calza di Natale dal feltro rosa con i pua! Attacca dei dettagli in feltro bianco! Incolla a caldo i pezzi della calza! Attacca le lettere LOL in gomma piuma glitterata nella parte superiore! Decora con un ramo di abete e bacche rosse! Incolla un nastro all'interno! Traccia il contorno con un pennarello rosa! Ora il camino sembra meritevole di Babbo Natale! Ottimo lavoro! La stanza è quasi pronta! Ma a questo scaffale manca qualcosa! Vediamo cos'è rimasto! Ed eccole qui! Delle grandi lettere LOL! Taglia delle grandi lettere LOL dal polistirolo! Rivesti la parte anteriore con pittura acrilica bianca! Usa un pennello spugna per raggiungere dei punti con la pittura acrilica nera! Dipingi i lati di rosa! Traccia il contorno con un pennarello nero! Che grande scoperta! Queste lettere stanno benissimo quassù! Decoriamo la mensola con tulle e palloncini! E un cappello di Babbo Natale! Questo è un fantastico sfondo fotografico in stile LOL! Le stoviglie adeguate sono fondamentali in una bella festa! Oh no! Tutti questi bicchieri hanno forme e dimensioni diverse! Devo fare qualcosa! Prepareremo dei bicchieri fai-da-te per questa festa! Copri il piede di un bicchiere con un foglio di gomma piuma argento! Lega dei pezzi di tulle a un nastro di raso! Crea una piccola gonna tutù! Taglia il bordo con le forbici! Lega la gonna allo stelo del bicchiere! E' stato abbastanza facile! Ora i miei bicchieri sono perfetti per questa adorabile festa LOL! Quale dolcetto dovrei cucinare? Certo, i cupcake! Ma questi dolcetti sembrano troppo noiosi! Come posso renderli speciali? Forse... a meno che... E se? Esattamente! So cosa fare! Monta la crema pasticcera con un mixer! Aggiungi colorante alimentare rosa! Metti la crema in una tasca da pasticcere! Spremi la glassa sui cupcake! Taglia le lettere LOL dalla pasta di zucchero bianca! Decora le compunti neri di pasta di zucchero! Prepara un bastoncino di zucchero con la pasta di zucchero rossa e bianca! Incolla le lettere e i bastoncini nella glassa! Decora il cupcake con marshmallow e zuccherini! Questi cupcake sembrano molto più elaborati con la glassa in cima! Sono così allettanti! Oh, la festa non è ancora iniziata! Dovrò aspettare! Tutto è pronto! La festa sta per iniziare! Ta-da! Ti piacciono le nostre decorazioni LOL? È incredibile! Tutto è così LOL! Ed ecco l'ospite della festa! Cosa ne pensi delle nostre decorazioni piccola? Sono belle! E io ho delle maschere LOL speciali! Per un servizio fotografico! Traccia un modello dell'iconica acconciatura LOL sulla gomma piuma rosa. Taglia gli occhiali dalla gomma piuma nera glitterata. E fiocchi da quella blu. Incolla tutti i pezzi insieme. Taglia una base per la maschera dal cartone. E incolla ci accalda un bastoncino. Attaccaci sopra la maschera. Decora con fiocchi di neve e stelle. Crea altre maschere LOL allo stesso modo. Sorridi! Questa acconciatura è perfetta per me! Questa festa sarà molto divertente! Me ne ero completamente dimenticata! Ho un regalo d'addio! Questa non è solo una sorpresa. È una grande pallina natalizia! Dipingi una grande palla di polistirolo vuota di rosa. Crea un motivo a pua nella parte esterna. Attaccaci adesivi Bumble e LOL. Attacca i magneti per collegare le due metà della palla. Traccia i contorni con un pennarello nero. Wow! Che bel regalo! Grazie! Siete le migliori decoratrici di interni LOL! Bene! Vediamo cosa c'è dentro! Aprilo! Wow! È pieno di ornamenti natalizi LOL! Forma un biberon LOL con l'argilla polimerica. Cuoccilo secondo le istruzioni sulla confezione. Rivesti il beccuccio con la colla e cospargilo di glitter. Rivesti la bottiglia con vernice per l'acea. Decora con un ramo di abete e fiocchi di neve. Attacca un nastro per fare un anello. Fai un fiocco e un guanto di argilla polimerica allo stesso modo. Che carini! Appendiamo gli ornamenti sull'albero di Natale! E ora possiamo iniziare la nostra festa LOL! Siamo pronte! Ti sono piaciute le nostre decorazioni natalizie LOL? Allora facci sapere nei commenti quali idee useresti per la tua festa di Natale! E non dimenticare di mettere like a questo video, di iscriverti al nostro canale e di fare clic sulla campanella in modo da non perdere nuove idee per le feste da Troom Troom!